ascoltare una canzone in attesa che tutti i partecipanti possano entrare in aula. Come sempre cominciamo con una piccola presentazione generale su quelle che sono le modalità. Molti di voi ci stanno seguendo ormai già dalla prima lezione, quindi alcune regole le conoscete. Mentre per i nuovi, come sempre, ricordiamo un po' come si fa ad avere l'attestato di partecipazione. In qualche modo ricordiamo le regole base dei nostri webinar. Oggi siamo alla lezione numero 11. Una piccola domanda, riuscite a vedere le slide? Mi date un feedback anche in chat, come preferite? Perfetto, oggi siamo alla lezione numero 11. Parleremo di diritti nel mercato digitale. Vi ricordiamo che in tutto i webinar sono 15, quindi ormai mancano solo altri 4 webinar. Abbiamo trattato vari argomenti, il Green Deal Europeo, il Next Generation EU, il PNRRR. Abbiamo avuto anche una parte iniziale interamente dedicata alla storia e quindi all'immagine dell'Unione Europea nel mondo. E poi avremo le ultime puntate che invece saranno dedicate alle fake news, alle fonti di informazione dell'Unione Europea. E come puntata finale avremo anche come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Vi ricordiamo che le lezioni d'Europa sono aperte a tutti i cittadini. Per coloro che non sono riusciti a seguire le lezioni precedenti, vi ricordiamo che all'interno di tutte le pagine dedicate ad ogni singolo webinar sono ora disponibili sia le slide quando sono state presentate che le videoregistrazioni. Però vi ricordiamo che è possibile anche partecipare alle singole iniziative senza dover necessariamente seguire l'intero ciclo di lezioni. Per quanto riguarda l'attestato di partecipazione, questo vi viene inviato una settimana dopo l'evento, dopo l'invio da parte nostra di una mail che vi comunica che siete stati attestati. Dopo che avrete ricevuto questa mail dovrete compilare il questionario di valutazione e soltanto dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Quando è che non potete ricevere l'attestato di iscrizione? Innanzitutto se vi siete registrati e se non vi siete registrati e chiedete l'accesso la mattina stessa del webinar oppure se entrate e vi registrate con numeri o nomi di fantasia ma in tal caso un mio collega vi contatterà per cercare di farvi cambiare il nome di ingresso oppure se per esempio avete utilizzato una mail differente da quella con la quale vi siete registrati al webinar e poi non ricevete l'attestato di iscrizione se non avete il fruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar. Oggi a differenza delle altre volte abbiamo cominciato una mezz'oretta prima perché purtroppo dopo l'aula è impegnata e anche perché diciamo per andare incontro alle esigenze degli elettori quindi questo webinar dovrà terminare necessariamente alle ore 11 e oggi avremo come moderatore il professore Raffaele Torino dello Europe Direct Università degli Studi di Roma 3 che è un altro dei partner delle lezioni di Europa appunto che lo vediamo in questo momento che ci saluta. Ricordiamo che le lezioni di Europa nascono da un format che è stato ideato dal Europe Direct dell'Università di Siena ma ora è attuato diciamo in collaborazione con lo Europe Direct dell'Università degli Studi di Roma 3 dello Europe Direct Roma Innovazione operativo presso il format XPA e dello Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani in Sicilia. Non vi anticipo chi saranno i relatori perché lascio il piacere al professor Torino di introdurli per la lezione. Vi ricordiamo però intanto la lezione della settimana successiva. La prossima settimana, esattamente il 26 maggio, ritorneremo al vecchio orario che è quello delle 10 e parleremo dell'approccio europeo e anche della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. Il prossimo webinar vedrà sia la partecipazione di alcuni funzionari del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Vi ricordo che il Centro Comune di Ricerca è una direzione della Commissione Europea che si occupa di dare il supporto scientifico a tutte le politiche dell'Unione Europea. Infatti come vedete abbiamo tre relatori del Centro Comune di Ricerca la prossima settimana ma avremo anche il presidente dell'Associazione Italiana per l'intelligenza artificiale che ci parlerà della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale mentre i relatori del Centro Comune di Ricerca ci parleranno di quello che è l'approccio europeo nei confronti dell'intelligenza artificiale. Come sempre vi ricordo la pagina di informazione della Commissione Europea su tutto ciò che riguarda il digitale appunto si chiama Un'Europa pronta per l'era digitale dove appunto vengono anche un po' esplicitate quelle che sono le azioni principali in questo settore da parte della Commissione dell'Unione Europea. Così come vi ricordo la pagina della Commissione Europea specifica sulla legge sui mercati digitali questo per garantire i mercati digitali equi ed aperti. Vi ricordiamo poi come sempre il nostro focus europa.formets.it che contiene tutta una serie di informazioni sia di notizie e di novità relative all'Europa ma anche contiene alcune banche dati tra cui la banca dati dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea più la banca dati sia dei bandi che degli eventi. In più attraverso questa pagina potete iscrivervi anche alla nostra newsletter cosa che vi raccomandiamo perché diciamo una delle osservazioni che ci sono state fatte sempre più di frequente è che molte volte le attività che noi organizziamo non vengono conosciute. In realtà il modo più semplice per essere sempre aggiornati su quelle che sono le nostre novità è iscriversi a questa nostra newsletter perché così dovete dare il consenso dei dati e così ci autorizzate a potervi inviare gli inviti relativi alle attività che organizziamo sul territorio. Vi ricordiamo appunto la nostra banca dati dei finanziamenti diretti dove potete trovare delle schede informative su quelli che sono i principali finanziamenti per il settore digitale che sono, lo ricordiamo, il programma Europa Digitale per il quale tra l'altro sono ancora aperti due bandi, sono scaduti alcuni bandi da poco ma ne restano ancora due aperti che scadono il 28 giugno 2022 che abbiamo indicato sulla parte sinistra della presentazione così come vi ricordiamo gli altri programmi che in qualche modo possono contribuire a finanziare azioni nel settore digitale e mi riferisco in particolare al fondo InvestEU e anche ai programmi Meccanismo per collegare l'Europa per quello che riguarda la parte digitale e il programma Orizzonte Europa 21-27 sempre per quanto riguarda le azioni relative al digitale ma non dimentichiamo che il digitale lo possiamo trovare anche in altre fonti di finanziamento per esempio nel programma Erasmus se pensiamo a delle azioni nel settore dell'istruzione che però utilizzano il digitale come strumento di comunicazione vi ricordiamo che ci potete contattare inviandoci una mail a europedirect.com.it così come potete contattare tutti gli europedirect che fanno parte del partenariato delle elezioni d'Europa per ulteriori approfondimenti vi ricordiamo che abbiamo una pagina dedicata all'innovazione digitale che è appunto igov.formets.it così come abbiamo un'altra pagina dedicata interamente ai finanziamenti diretti che sono programmicomunitari.formets.it e poi seguiteci anche sul nostro canale Twitter e di YouTube a questo punto mi taccio lascio la parola al nostro moderatore che è il professore Raffaele Torino e ci rivediamo per un saluto a fine webinar prego Raffaele buona giornata, buon webinar a tutti grazie, grazie Claudia scusate per questa voce un po' profonda ma da qualche giorno sono positivo al Covid e quindi non riesco a esprimere tutta la bellezza della mia voce però come vedete ho mantenuto uno spirito allegro perché ormai confidiamo tutti che questo Covid ci liberi rapidamente o in maniera un po' più delicata e meno invasiva di quanto avvenuto in passato ma al di là di queste notazioni personali consentitemi anzitutto di ringraziare i relatori e tutti coloro che ci stanno seguendo nonché tutti i colleghi con cui organizziamo queste belle lezioni d'Europa che a mio avviso portano tanta diffusione della conoscenza del processo di integrazione europea e di ciò che di positivo il processo di integrazione europea rappresenta per noi tutti i cittadini europei il tema di oggi è appunto il mercato unico digitale e i diritti di noi cittadini europei nel mercato unico digitale perché è evidente che il processo di integrazione europea è andato ben oltre l'essere un semplice processo di integrazione economica sotto molteplici profili non ultimi anche quelli che abbiamo visto e vediamo rispetto a quello che sta accadendo tristemente in Ucraina noi in maniera più sommessa, più circoscritta ci vogliamo concentrare oggi su che cosa di positivo porta il processo di integrazione europea rispetto a quello che è il nostro futuro il nostro futuro è un futuro molto digitale come dice il filosofo Floridi noi ormai siamo on life lo dimostra il nostro stesso webinar di questa mattina cioè la nostra vita si svolge non solo più concretamente nella realtà a cui eravamo abituati soprattutto quelli della mia generazione ma si svolge moltissimo online e da questo punto di vista l'online è qualcosa che per definizione trascende le frontiere nazionali sempre più flebili, sempre più sottili fra i paesi membri dell'Unione Europea eppure a volte persistenti l'online è per definizione qualcosa che va al di là del nostro piccolo paese del nostro piccolo modo di vedere le cose ecco allora che abbiamo voluto far intervenire oggi due relatori che conoscono molto bene il mercato digitale sia perché da una parte lo regolano e lo sorvegliano e mi riferisco qui all'amico, collega Guido Scorza componente del garante per la protezione dei dati personali che evidentemente si preoccupa e si occupa per tutti noi di tutelare quello che genericamente viene definita la privacy nel momento in cui noi ci muoviamo online sia chi l'online lo costruisce, lo vive, lo forma vale a dire con la denominazione adesso acquisita Meta che noi tutti conosciamo come Facebook e abbiamo allora chiesto di intervenire ad Angelo Mazzetti che è il responsabile delle relazioni istituzionali di Meta Facebook per tutto il sud Europa, Italia, Grecia e così via ecco abbiamo dei tempi molto stretti sappiamo che oggi dobbiamo finire prima perché l'aula è occupata quindi non voglio togliere ulteriore spazio ai due relatori anche perché mi piacerebbe che il pubblico potesse fare le domande più opportune quelle che evidentemente saranno stimolate dalle relazioni quindi do subito la parola a Guido Scorza componente del garante per la protezione dei dati personali perché ci parli da par suo di quali sono le principali sfide che il mercato unico digitale pone ai nostri diritti di cittadini pone la nostra privacy, alla nostra riservatezza al nostro modo di vivere e veramente Guido mi taccio come abbiamo detto ai 20-25 minuti e poi passeremo ad Angelo Mazzetti se riuscirà già ad aggiungerci perché anche lui per i motivi istituzionali a volte ha delle difficoltà io mi taccio, a te Guido la parola buongiorno, intanto grazie Raffaele per questa opportunità quello che vedete alle mie spalle non è l'ufficio del garante privacy ci tengo a dirlo subito per evitare che qualcuno pensi che lavoriamo in un posto tanto bello siamo impegnati nella Spring Conference che è la conferenza annuale delle autorità di protezione dei dati personali europei ma nel senso dei paesi del Consiglio d'Europa quindi dell'Europa allargata del Consiglio d'Europa e non il nostro board dei garanti europeo tradizionale ex GDPR provo nei pochi minuti che seguono a tratteggiare il quadro del quale il professor Torino ha già fatto cenno nella maniera più rapida possibile rimanendo poi naturalmente a disposizione per eventuali domande con un unico limite di calendario nel senso che l'agenda di questa conferenza vuole che tra poco si votino le risoluzioni e lì siamo tavoli schierati vorrei evitare di fare la figura dell'italiano che già sarà quello che nell'opinione comune adesso sta facendo colazione e si è svegliato e si è svegliato tardi quindi questo ve lo anticipo allora io credo che lo scenario che noi abbiamo davanti possa essere riassunto in questi termini c'è un diritto in fondo che è sintesi di tanti altri diritti e che è messo in crisi a mio modo di vedere le cose più di altri nella dimensione digitale credo di poter definire questo diritto come il diritto all'autodeterminazione consapevole l'autodeterminazione consapevole la libertà di scelta in tutte le dimensioni in cui questo diritto può essere definato dalla dimensione più strettamente negoziale e di mercato alla dimensione politico-democratica per dirla diversamente dalla scelta libera da parte dell'utente consumatore del prodotto e servizio di cui servirsi sino ad arrivare al voto di quello stesso utente consumatore con il cappellino del cittadino nella sua dimensione per l'appunto diciamo democratica di esercizio di un diritto e di una libertà costituzionalmente a lui garantiti qual è la cifra comune direi che pone in crisi questi due questo diritto nella dimensione digitale il fatto che al dispetto di quello che molto spesso ciascuno di noi pensa quelle scelte che poniamo in essere nella dimensione digitale sono decisamente già oggi e rischiano di esserlo ancora di più in futuro meno libere di quanto non appagliano perché io direi essenzialmente per due ragioni per due ragioni per due ragioni diverse ovviamente è una scelta quella che che vi sto proponendo assolutamente personale assolutamente editoriale chiunque di noi intorno a questo tavolo potrebbe proporre altro tipo di limite o di rischio prevalente con il quale ci stiamo ci stiamo confrontando io credo che il primo un primo limite sia rappresentato dalla assenza di consapevolezza figlia in buona misura dell'assenza di trasparenza reale cioè di fatto il consumatore l'utente e l'utente anche quando agisce da cittadino si rapproccia si approccia alla dimensione alla dimensione digitale bombardato di informazioni che nelle intenzioni del legislatore anche di quello euro unitario ormai da tanto tempo tanto nella disciplina a tutela del consumatore tanto in quella sui servizi finanziari tanto e soprattutto in quella relativa alle cose della privacy ha ritenuto di bilanciare la posizione debole dell'utente con la posizione forte dei fornitori di servizi ponendo a carico di questi ultimi degli obblighi di informazione sempre maggiori e sempre più stringenti ora in teoria nella dimensione accademica questa è apparsa da sempre una buona idea per accompagnare l'utente e consumatore a porre in essere la scelta che poi gli viene di volta in volta chiesta di porre in essere in maniera informata però a ben vedere quello che accade è che oggi di fatto questo bombardamento informativo penso ai termini d'uso dei fornitori di servizi del digitale penso alle informative per la privacy dei fornitori di servizi in digitale sono lì sono teoricamente accessibili a chiunque teoricamente possono essere lette da chiunque a monte delle scelte che contano acquisto non acquisto un prodotto mi iscrivo non mi iscrivo ad un servizio presto non presto il consenso il trattamento dei miei dati dei miei dati personali ma nella realtà nessuno di noi le legge tutti quanti corriamo a cliccare su quel pulsante più o meno grande a destra o a sinistra in verde piuttosto che in blu che dice accetta e continua insomma è il claim il titolo della società che stiamo vivendo potrebbe tranquillamente essere non la società dei dati non la società dell'informazione non la società degli algoritmi ma appunto la società dell'accetta e continua perché è il gesto dal punto di vista giuridico dal punto di vista democratico più ricco di significato ma nella realtà sempre più povero sempre più svuotato di significato perché arriviamo a cliccare su quel pulsante senza una reale consapevolezza e naturalmente come dire questo scenario che io credo sia più o meno facilmente percepibile anche nella dimensione empirica da ciascuno da ciascuno di noi produce una conseguenza piuttosto piuttosto ovvio cioè ci svuota di quel diritto all'autodeterminazione libera e consapevole in quel contesto perché se dico di sì senza sapere esattamente a cosa sto dicendo di sì senza comprendere esattamente le implicazioni di quel sì senza aver chiari quali sono i miei diritti dopo che ho detto dopo che ho detto di sì beh insomma quel sì sarà anche manifestazione di una volontà negoziale ma conta oggettivamente molto conta oggettivamente molto poco perché questo accade beh questo diciamoci in maniera molto molto franca che accade essenzialmente per due ragioni la prima ragione è che da parte di quasi tutti i fornitori di servizi ma qui come dire c'è poco da criminalizzare i fornitori di servizi digitali perché si pongono semplicemente su una strada battuta prima di loro da una serie di fornitori di servizi non digitali penso ai fornitori delle utilities per quanto riguarda le cose degli utenti e dei consumatori penso ai fornitori di servizi finanziari per quanto riguarda le cose di quel mercato e cioè io do tutte le informazioni che la legge mi chiede di dare all'utente e al consumatore ma gliele do con l'area di chi deve semplicemente adempiere ad un obbligo di legge non devo farmi capire non devo per davvero spiegare all'utente e al consumatore quali sono le implicazioni di quella scelta negoziale lo sto facendo perché la legge mi impone di farlo e quindi più informazioni metto dall'altra parte più alleggerisco la mia posizione nella dimensione giuridica e poi pazienza se questo non significa contribuire in maniera sufficientemente efficace a rendere il consumatore consapevole al momento della scelta a fianco a questo fenomeno che appunto incide negativamente sul diritto all'autodeterminazione c'è un altro fenomeno parallelo ormai questo fenomeno è più o meno codificato è più o meno chiaro a tutti gli addetti ai lavori di recente anche come board delle autorità di protezione dei dati personali europee ci siamo pronunciati su questo fenomeno con delle linee guida il fenomeno in questione si chiama dark pattern dark pattern è un misto diabolico sono un misto diabolico di interfacce e processi interfacce e processi penso esattamente come dire alla configurazione al layout alla grafica delle interfacce dei piccoli e grandi fornitori di servizi digitali che ci vengono incontro che si presentano a noi come se ci stessero consegnando una reale libertà di scelta ma in realtà sono disegnate concepite progettate in maniera scientifica per indurre l'utente e il consumatore a preferire una scelta piuttosto che un'altra scelta di fatto ci presentano la possibilità di dire presto il consenso o nego il consenso ma per come lo fanno quando dico come lo fanno parlo di grafica parlo di colori parlo di disegno parlo di tutte le componenti tradizionali di una interfaccia ci spingono fortissimamente ci inducono a fare la scelta che fa più comodo al fornitore di quel servizio e ovviamente quindi diciamo un po' il gap di trasparenza figlio dell'eccesso informativo della zavorra informativa un po' questi dark pattern è il risultato finale che noi si arriva in fondo e si è davvero poco consapevoli della scelta negoziale che ci si ritrova a fare qualunque sia l'oggetto della scelta negoziale in questione o persino domani ma in alcuni casi già oggi quando quella scelta non abbia per oggetto un tema negoziale ma abbia per oggetto un tema diciamo di esercizio di diritto di diritti civili e democratici quindi questo è secondo me uno dei primi grandi rischi che noi che noi abbiamo davanti questo rischio si accompagna ad un altro rischio a fianco rappresento anche questo secondo rischio ma sempre connesso all'autodeterminazione informata dei singoli cittadini poi provo a dire due parole su cosa si può fare e di là poi mi taccio in attesa di eventuali di eventuali domande qual è l'altro problema l'altro problema anche qui è piuttosto facile da cogliere anche nella dimensione empirica si dice si dice spesso nel parlare comune con Paolo con Francesco con Giovanni ci parlo io perché lo conosco li conosco molto bene so come prenderli e in quel so come prenderli dietro di fatto c'è so come portarli a manifestare una volontà che a me fa comodo nessuno è in grado di convincere qualcun altro di una certa decisione meglio di chi qualcun altro lo conosce meglio di tutti quindi questo è un po' il contesto che noi abbiamo il contesto che noi abbiamo che noi abbiamo davanti adesso nella dimensione digitale chi è che ci conosce meglio di tutti ci conosce meglio di tutti chi fornisce servizi basati sul trattamento di grandi quantità di dati di dati personali perché raccogliere dati personali profilare i profilare gli utenti i consumatori di quei servizi ha poi come scopo finale quello di arrivare a conoscere l'utente consumatore non è un iperbole ma è qualcosa che già oggi è in realtà meglio di quanto quell'utente consumatore si conosce da solo adesso faccio un esempio ma è uno pescato in una marea realisticamente se domani qualcuno mi chiedesse ma tu saresti pronto a trasferirti per tre anni a Tokyo per fare questo lavoro io credo che avrei bisogno di qualche giorno di qualche settimana per pensare a questa offerta per parlarne in famiglia per capire se è bene o meno bene o addirittura male per me ma se questa stessa domanda a proposito di ma Guido Scorza sarebbe disponibile a trasferirsi a Tokyo per due anni o per tre anni per fare questo lavoro la si potesse porre agli algoritmi che governano naturalmente in particolare le grandi piattaforme di servizi digitali è impossibile dubitare della circostanza che quegli algoritmi sarebbero in grado di anticipare la scelta alla quale io probabilmente arriverei o arriverò solo ed esclusivamente una settimana più tardi o dieci giorni più tardi perché quegli algoritmi per quantità di dati con i quali sono stati addestrati e per quello che sanno di me i soggetti che li gestiscono mi conoscono meglio di me stesso allora e questo è naturalmente un altro scenario del presente del futuro prossimo dove ormai sappiamo tutti quanti che quando parliamo di futuro prossimo non pensiamo a qualcosa che accadrà tra cinque anni o tra dieci anni come si faceva una volta ma a qualcosa che accadrà tra un anno tra due anni o tra tre anni e questo da capo incide su quel benedetto diritto all'autodeterminazione perché se io fornitore di servizi digitali arrivo a conoscerti così bene da poterti proporre fare una domanda come te la farebbe il tuo migliore amico in maniera tale da portarmi a casa quasi certamente la risposta che a me interessa portarmi a casa beh insomma l'epilogo di questa partita è piuttosto chiaro nella dimensione simulata abbiamo tutti una straordinaria libertà di scelta nella dimensione effettiva e quindi non nel come dovrebbero andare le cose ma nel come le cose vanno per davvero questa scelta si assottiglia fino a quasi a scomparire perché di fatto io davanti ad una domanda che mi è posta da chi mi conosce meglio di me stesso risponderò tendenzialmente per come quel qualcuno vuole che io risponda ecco quindi questo diciamo dovendo scegliere nella miriade di problemi che noi abbiamo davanti un diritto capofila di una serie di altri diritti secondo me più messo in crisi di altri nella dimensione digitale personalmente non avrei grandi dubbi nell'identificare questo diritto nel diritto all'auto determinazione diritto all'auto determinazione appunto da declinare in tutte le direzioni possibili aggiungo un bit a questa serie di motivazioni che mi portano a questa conclusione è che è come dire difficilmente possiamo lasciare fuori dal tavolo e naturalmente questo bit è la dimensione tendenzialmente oligopolista di quell'universo che a lungo avevamo tratteggiato come la più grande piazza pubblica della storia dell'umanità e oggi è una piazza che ha una serie di gatekeeper molto molto ben identificati che naturalmente come dire restringono in maniera significativa il pluralismo della informazione e dell'educazione nella dimensione nella dimensione digitale e quindi di fatto fanno sì che in pochi conoscendo meglio di chiunque altri tanti abbiano la possibilità di governare diciamo così l'opinione pubblica l'opinione pubblica l'ormale ecco questo è lo scenario cosa si può fare cosa stiamo provando a fare in questo scenario a livelli diversi dal livello direi regolamentare e politico alto quindi quello dei soggetti legiferanti nell'unione nell'unione europea e a livello più basso diciamo di vigilanza e regolamentazione seconda delle autorità in particolare naturalmente delle autorità di protezione dei dati personali ma io vi dico intanto in maniera assolutamente trasparente che la mia certezza drammaticamente impopolare è che questa sia una partita che si vince o si perde solo ed esclusivamente a seconda di quanto riusciamo ad investire in educazione e cultura e che tutte le altre soluzioni variamente opportune variamente condivisibili siano dei pagliativi rispetto al problema cioè noi o riusciamo ad educare l'utente consumatore a questo contesto a spiegargli che anche quando si sente libero è un po' meno libero che quando cede dati personali non ha importanza in cambio di che cosa sta cedendo libertà perché sta consegnando a chi sta dall'altra parte una consapevolezza che potrebbe essere utilizzata e che sarà certamente utilizzata strumentalmente per indurlo a talune a talune scelte oppure questa partita temo di essere facile profeta nel dire che non si vincerà mai il limite naturalmente di questo approccio è che questa non è una partita di breve periodo cioè servono diciamo politici che non abbiano il problema della scadenza elettorale troppo prossima e che siano disponibili a mettersi sulle spalle un percorso di medio lungo periodo nel quale verosimilmente qualcun altro al posto loro raccoglierà i frutti ma se non lanciamo una campagna di educazione di massa nella quale penso che queste lezioni si inseriscano già a pieno a pieno titolo per educare i consumatori agli utenti ai cittadini al valore dei dati innanzitutto perché tanto tutto è dati in quella dimensione quindi per educarli al valore al valore dei dati noi non andiamo da nessuna parte il valore dei dati e questo è il processo dopodiché nella dimensione dell'attivismo che è un'altra dimensione che credo soprattutto in lezioni d'Europa come questa vada tenuta tenuta presente io qui ho un chiodo fisso un pallino un pallino fisso il mio pallino fisso è che nelle cose della protezione dei dati debba accadere esattamente quello che è accaduto nelle cose dell'ecologia del green dell'ambiente della sostenibilità ambientale cioè noi dobbiamo arrivare a fare in modo e serve da capo informazione educazione cultura campagne di attivisti che per l'utente o il consumatore la misura nella quale il fornitore di servizi pubblico o privato che sia perché il problema è trasversale rispetta la sua privacy sia uno dei driver che lo guida alla scelta di consumo oggi quando scegliamo una macchina noi scegliamo una macchina certamente per la tecnologia di bordo certamente perché la carrozzeria ci piace certamente per quello che c'è sotto il cofano certamente perché ne abbiamo sentito parlare in pubblicità ma in una percentuale minima in alcuni casi e per alcune persone più rilevante che per altri anche per l'impatto ambientale dell'uso di quella macchina quali sono le sue emissioni di anidride carbonica ecco bisognerebbe che nelle cose della protezione dei dati si arrivasse allo stesso risultato scelgo di acquistare un prodotto scelgo di utilizzare un determinato servizio in relazione anche in relazione a quanto il fornitore di quel prodotto di quel servizio rispetta la mia privacy il giorno che siamo arrivati saremo arrivati lì la mia sensazione è che le cose vadano meglio dopodiché bene benissimo e mi taccio che l'Unione Europea giochi la sua partita anche nella dimensione politica alta nella dimensione politica internazionale in qualche modo richiamando all'ordine in particolare i più grandi ma non solo i più grandi qui la mia convinzione resta sempre la stessa guai se tradiamo il principio che le leggi sono generali ed astratte e cominciamo a disegnare leggi diciamo a persona ma di società contro qualcuno anziché nell'interesse di tutti quindi qui che l'Europa faccia la sua partita per dire ma come europei questi sono i valori che vogliamo ispirino anche i nostri mercati digitali e questi valori devono essere rispettati da tutti senza riguardo al paese dal quale forniscono il servizio questo è certamente prezioso questo è certamente utile potrebbe valere mi auguro potrà valere a rompere in alcuni casi non sono particolarmente convinto diciamo del risultato finale ma in alcuni casi potrebbe valere a rompere quegli oligopoli e a garantire un maggior pluralismo dal punto di vista dell'informazione nella dimensione digitale ecco io mi fermerei qui se ci sono domande rispondo volentieri mi fermo ancora qui volentieri per qualche minuto poi dovrò lasciarmi grazie Guido grazie soprattutto per essere con noi in questa giornata per te complessa difficile con tutti gli altri regolatori europei nell'Europa allargata come definito tu confidiamo che l'entusiasmo che sempre metti nelle tue attività e la grande competenza producano dei risultati per tutti noi cittadini europei una domanda che ti faccio io prima di passare la parola poi a Flavio Arzarello di Meta tu hai parlato di valorizzazione economica dei nostri dati ora un tema che ad esempio si pone si è posto nel corso che ho io a Roma 3 gli studenti da me sollecitati su questo punto sulla domanda ma in fondo voi preferite avere un servizio gratis cedendo i vostri dati personali oppure preferite avere un servizio non gratis ma non cedendo i dati personali o controllandoli direttamente e devo dire che la maggioranza degli studenti la grande maggioranza forse un po' tutti noi diciamo ma sai che c'è di nuovo ma quanto potrò ricavare dal mio dato personale un euro l'anno due euro l'anno ma forse mi conviene accettare il servizio gratis cosiddetto cosiddetto gratis ecco non so se questo tipo di valutazione voi le state anche esaminando se non si può immaginare una sorta di cessione collettiva dei dati personali di gestione collettiva come per il diritto ad autore in qualche modo per le canzoni ecco questo è un po' quello che è uscito anche nella discussione con i ragazzi che ne pensi e poi veramente ti liberiamo e ti evitiamo di farti fare la figura dell'italiano all'estero grazie per questo ci interessa tutti ma allora quella che poni è naturalmente forse direi addirittura la questione sulla quale si stanno confrontando le autorità di protezione dei dati europei in questo caso penso al board delle autorità di protezione dei dati quello ex GDPR nessuna autorità di protezione dei dati europea ha ancora sciolto il nodo ha ancora risposto in maniera diretta a questa domanda credo che il tema vada affrontato con urgenza in maniera molto laica quindi diciamo rifugiendo da qualsiasi fondamentalismo anche della privacy e prendendo anche atto naturalmente come dire del contesto di mercato tra virgolette nel quale oggi viviamo e però per fare l'unica cosa che in questo momento posso fare metto sul tavolo semplicemente le due alternative ma non sono in grado di dire quale debba essere la soluzione se si legge e si scorre il GDPR dentro si fa oggettivamente fatica a identificare delle disposizioni che vietino o precludano lo scambio del dato contro il servizio tutto sommato la dimensione negoziale sembra abbastanza connaturata al GDPR il contratto è una base giuridica del trattamento il consenso deve essere libero ma non è che si dica da qualche parte che non può essere economicamente incentivato paventando all'interessato un vantaggio economico diretto o indiretto che sia quindi diciamo sulla base del diritto positivo probabilmente vi sono delle ragioni che dicono ma se l'utente è disponibile a scambiare un dato con un servizio chi siamo noi per impedirgli di farlo certo lungo questa strada c'è sempre da considerare che nel nostro caso il diritto di cui discutiamo è un diritto fondamentale che ha radici profonde nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e che normalmente i diritti fondamentali non possono essere oggetti di mercato dopodiché è possibile che facendo sintesi della natura di diritto fondamentale del diritto alla privacy del diritto positivo da GDPR potrebbe arrivarsi domani ad una conclusione che dice il diritto alla privacy è inceribile del singolo segue la sorte di tutti gli altri diritti fondamentali ma forme di licenza ora a prescindere da come poi siano amministrate in forma collettiva consorziata individuale ma in qualche modo normata dall'alto potrebbe essere evidentemente una strada magari una licenza a tempo determinato solo per alcuni dati via i dati particolari non per la profilazione insomma ecco tutto questo da un lato potrebbe anche essere uno scenario devo però ricordare anche quell'altra faccia della medaglia che ben si lega alla discussione che hai avuto con i tuoi studenti perché naturalmente temo che la risposta ad una persona alla quale si dice ma preferisci garantirti il diritto di utilizzare i servizi di meta giusto perché abbiamo meta ma insomma di google di microsoft di tiktok e di tutti gli altri pagando come fai con netflix x euro al mese o piuttosto cedendo un po' della tua privacy ecco io ho la sensazione che una parte del mondo risponderebbe senza grandi esitazioni preferisco tenermi dopo che naturalmente gli avremmo spiegato fino in fondo cos'è un po' più della mia privacy ma spendere quei 5, 6, 7, 10, 20 dollari al mese ma un'altra parte del mondo che è la più parte del mondo cioè quella per la quale quei 5, 6, 7, 10 dollari al mese come dire fanno la differenza tra il comprare il pane non comprare il pane avere la luce dentro casa o non aver la luce dentro casa se questa può essere una loro ambizione naturalmente risponderebbero chi se ne frega della privacy ho priorità diverse e il denaro in cash il poco che vedo lo investe in una direzione diversa e quindi staremmo dicendo che il diritto alla privacy rischia di perdere quella caratteristica dell'universalità che invece accompagna e deve accompagnare tutti i diritti fondamentali cioè uguali per tutti a prescindere dal ecceto sociale dalla razza dal sesso e da ogni altro parametro e in questo senso e lungo questa lungo questa strada credo che dobbiamo ricordarci tutti quanti l'insegnamento del consiglio di stato francese di qualche anno fa dell'inizio del del 90 in quella famosa giurisprudenza nota come la giurisprudenza sul lancio del nano in cui il consiglio di stato avendo davanti a sé il caso di un comune che aveva bloccato uno spettacolo circenze spettacolo circenze basato sul lancio di una persona affetta da nanismo da una parte all'altra del pubblico sulla base di un contratto tra il circo e la persona in questione i giudici del consiglio di stato dopo aver sentito il circo che dice ma noi il nano lo paghiamo abbiamo concluso con lui un contratto libero perché faccia questa attività è il nano che dice ma la gente ride di me quindi almeno mi faccio pagare se la gente ride di me e i giudici del consiglio di stato concludono siamo all'inizio del 90 ma la dignità non è in vendita e quel contratto è nullo ecco dignità da sempre in Europa fa rima con identità personale quindi con protezione dei dati personali e quindi il problema che inesorabilmente dobbiamo porci è se dire di sì a qualsiasi tipo di forma diciamo di mercificazione del diritto alla privacy non possa significare dire di sì ad una qualche forma di mercificazione della dignità della persona perché quella naturalmente sarebbe una strada che come europei non credo in noi si possa battere in nessun modo grazie Guido sì questo è veramente uno se non il tema dei temi uno dei temi principali di tutto il mondo e dell'attività digitale ti ringrazio veramente ti ringrazio così puoi andare a raggiungere gli altri regolatori e adesso introduco il dottor Flavio Arzarello che dovrebbe averci raggiunto vi chiedo di attivare il video eccolo ecco vedo Flavio Arzarello buongiorno il dottor Arzarello è public policy manager di Meta che prima noi tutti conoscevamo come Facebook in qualche modo poi ci spiegherà lui evidentemente esattamente i rapporti sostituisce Angelo Mazzetti che so ha avuto un impegno istituzionale dottore grazie innanzitutto per la sua presenza come ho spiegato all'inizio a noi ha fatto piacere unire in questo webinar da una parte il regolatore custode del mondo digitale per quanto riguarda almeno i dati personali che in quel caso ha assunto la voce di Guido Scorza però volevamo anche sentire la voce di un operatore del mondo digitale se non di uno dei principali operatori del mondo digitale che di cui molti parlano bene qualcuno parla male ci sono tutti noi abbiamo visto dei film inchieste documentari insomma ecco che a volte gettano ombre su sugli operatori del mondo digitale sappiamo anche che però sono attivi gli operatori del mondo digitale per cercare di rendere questo mondo più equilibrato più corretto anzitutto io mi viene in mente l'oversight board proprio sviluppato da facebook e vorremmo sentire un po' dalla sua voce due cose primo quali sono i problemi che voi affrontate più frequentemente a tutela dei diritti degli utenti che utilizzano la vostra piattaforma che è la principale piattaforma social mondiale e come pensate di risolverli e poi se mi consentirà lascerei un po' di spazio alle domande che saranno sicuramente molte e che lei essendo public policy manager saprà sicuramente gestire al di là di più o meno velate provocazioni che potrebbero anche arrivare come sempre accade in questi contesti quindi le lascio intanto lo spazio per la sua relazione introduttiva 20-25 minuti come ritiene e e poi un po' di tempo per le domande grazie veramente va bene innanzitutto grazie mille perché l'occasione è davvero gradita anche per la qualità degli interlocutori e e per lo scopo della giornata nel senso che come diceva Guido in in chiusura del suo intervento è sempre più importante costruire momenti in cui come dire ci sono occasioni di confronto ma anche cresce la consapevolezza di ciascuno rispetto all'ambiente che ci troviamo ad affrontare online perché credo che davvero questa sia la chiave non voglio dire l'unica ma sicuramente se penso diciamo a una soluzione di lungo periodo nella quale come diceva qualcuno diciamo nel lungo periodo saremo tutti morti però prima di morire diciamo così magari acquisiremo più consapevolezza dell'ambiente circostante credo che alla fine questa sia davvero la soluzione più importante che possa diciamo preservare gli utenti diciamo in un ecosistema digitale nella maniera più più robusta possibile diciamo così allora andiamo con ordine le questioni sono tante sono diverse probabilmente richiederebbe un approfondimento più ampio però intanto credo che questa mattina possiamo iniziare a fare un come dire ad aprire un ragionamento che poi naturalmente potrà proseguire nelle modalità che riterremo nelle prossime settimane allora innanzitutto cos'è Metra perché i nostri servizi sono noti magari è meno noto diciamo il modo in cui ci siamo riorganizzati da ottobre del 2021 Meta è l'azienda che sostanzialmente ha come servizi principali al momento Facebook Instagram e Whatsapp e diciamo il fatto che ci siamo chiamati Meta da ottobre 2021 cambiando il nostro nome che è un nome fortemente radicato nell'immaginario collettivo diciamo come quello di Facebook ha un motivo preciso il motivo è che noi stiamo traguardando la costruzione della piattaforma digitale del futuro quello che secondo noi sarà diciamo il nuovo internet che diciamo è il metaverse o metaverso se lo vogliamo dire in italiano che cos'è il metaverso in una parola giusto per dare un po' di contesto e poi per riallacciarci anche alla questione dei diritti fondamentali il metaverso sarà diciamo il nuovo ambiente in cui il il mondo digitale internet più in generale passerà da un'esperienza bidimensionale alla quale siamo abituati oggi come questa conversazione che stiamo avendo tra rappresentazioni bidimensionali dei nostri corpi diciamo così a un'esperienza invece immersiva tridimensionale in cui sostanzialmente sarà possibile avere interazioni interazioni sempre più realistiche in un ambiente tridimensionale sostanzialmente accorciando le distanze naturalmente questo apre da un lato la possibilità a moltissimi use cases richiamiamo in gergo cioè applicazioni di questa piattaforma che in questo momento sono principalmente sul versante del gaming ma che ben presto diciamo andranno in settori che sono molto più come dire impattanti impattanti nelle nostre vite penso all'healthcare penso al mondo del lavoro in cui sarà possibile avere interazioni come questa che stiamo avendo oggi però in maniera realistica tridimensionale in cui per esempio la gestualità in qualche modo non si perda come si perde quando inevitabilmente siamo collegati da remoto e naturalmente accanto a questo avremo tutta una nuova serie di problematiche perché quando diciamo così nasce una nuova innovazione tecnologica un nuovo ambiente insieme ai benefici nascono tutta una serie di problematiche che fino al momento precedente erano del tutto inimmaginabili è un po' la storia che abbiamo vissuto con il web qual è la sfida e poi invece vado diciamo più sul merito dei problemi e del tema del giorno però qual è la sfida diciamo che abbiamo di fronte come industri come utenti e come regolatori che negli ultimi 25 anni abbiamo vissuto sostanzialmente la regolazione di internet con come dire tutti i problemi anche che che ne sono derivati tra cui il fatto che naturalmente la regolazione è arrivata dopo il fatto dopo una fase successiva rispetto a quando si è affermata la tecnologia credo che in questa nuova fase rispetto al metaverso siamo ben posizionati per procedere in parallelo cioè basati sulla nostra esperienza di tutti non solo dell'industria naturalmente fare una conversazione in parallelo con i regolatori con i legislatori per fare in modo che le norme accompagnino l'innovazione tecnologica quindi siamo in un campo nuovo che avrà problematiche nuove è un terreno su cui credo seminari momenti di ricerca e di come dire di indagine sul mondo che sarà e su come tutelare meglio i diritti di ciascuno sono fondamentali venendo diciamo al tema di oggi cioè a come noi nell'ambiente che oggi ci troviamo a gestire in larga parte che è quello dei social network cioè sostanzialmente per quanto ci riguarda di facebook e di instagram e naturalmente di whatsapp anche se come sapete whatsapp ha una natura diversa nel senso che in larghissima parte un servizio di messaggistica punto punto dico in larghissima parte perché è noto che si possano anche come dire formare gruppi e così via però diciamo il servizio principale è un servizio di messaggistica end to end allora innanzitutto inquadriamo la questione dalla base qualunque soluzione noi vogliamo implementare il primo problema che ci troviamo di fronte quando progettiamo una soluzione è la scala a cui operiamo perché solo per dare dei numeri che tra l'altro non sono neanche aggiornatissimi ma sono diciamo dell'anno scorso noi abbiamo più di 3.3 miliardi di utenti su base mensile a livello globale 2.6 e quindi sicuramente qualcosa in più perché sono dati dell'anno scorso appunto su base giornaliera a livello globale e in Italia il corrispettivo sono più di 33 milioni su base mensile e più di 26 milioni su base giornaliera questo lo dico perché naturalmente questo impatta è il modo in cui si ragiona inevitabilmente perché la scala è uno dei principali fattori che noi dobbiamo tenere in considerazione e poi c'è una questione quando si parla di diritti fondamentali naturalmente i diritti fondamentali sono diversi e noi dobbiamo come dire costantemente cimentarci con un esercizio complesso che è quello di trovare il giusto bilanciamento cioè vi faccio degli esempi concreti per cercare di diciamo di spiegare cosa intendo noi siamo naturalmente lo sanno tutti una azienda americana per noi ad esempio la tutela della libertà di espressione è fondamentale e direi uno dei diritti alla base anche della mission di facebook come piattaforma che come sapete è quella di connettere il mondo e sostanzialmente di accorciare le distanze tra le persone e favorire la costruzione di comunità nel mondo ma naturalmente voi capite che la libertà di espressione che ovviamente è tutelata e riconosciuta come ovvio dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e più diciamo stando più un esempio nazionale dall'articolo 21 della nostra costituzione se immaginata senza confini in maniera assoluta può risultare in danni per per gli utenti e quindi questo è un esempio di come questa libertà questo diritto vada continuamente bilanciato con altri diritti per fare degli esempi naturalmente c'è il diritto delle persone degli utenti di essere sicuri sulle nostre piattaforme e come Guido scorza diceva sicuramente meglio di me naturalmente c'è il diritto alla privacy che in particolare in Europa naturalmente è tutelato dal GDPR che è diventato diciamo un benchmark a livello globale quindi l'esercizio che noi ci troviamo continuamente diciamo a fare e come dire trovare il giusto punto di equilibrio e il bilanciamento tra questi diversi diritti e naturalmente è un punto di equilibrio che è sempre dinamico e che è influenzato e che è influenzato diciamo dall'evoluzione della società del contesto e di quello che sta intorno a noi noi siamo chiamati sostanzialmente ogni giorno come piattaforma a prendere decisioni che siamo consapevoli non dovrebbero essere prese da una piattaforma privata da una realtà privata pensate per esempio solo a tutta la questione della moderazione dei contenuti ci sono ovviamente esempi importanti il cui principale per esempio è quello che è successo a seguito diciamo dell'assalto a Capitol Hill la vicenda insomma che ha riguardato l'ex presidente americano Trump quello è un caso credo tipico di una situazione assolutamente imprevedibile di fronte alla quale abbiamo dovuto prendere decisioni radicali che naturalmente dovranno essere prese anche in un tempo molto molto rapido non a caso noi siamo stati i primi diciamo negli anni scorsi a chiedere una regolamentazione per le piattaforme digitali può sembrare un paradosso perché a lungo diciamo c'è stato anche un po' il mito se vogliamo del fatto che le piattaforme e segnatamente quelle born and raised in Silicon Valley diciamo così volessero in qualche modo un mondo il meno regolato possibile in realtà dal nostro punto di vista avere delle regole e avere degli standard ci aiuta ad operare in una maniera più come dire comprensibile per gli utenti ma anche diciamo così come dire prendendo sempre meno questo tipo di decisioni che ripeto per quanto ci riguarda non dovrebbero in un mondo ideale diciamo essere prese da entità private detto questo naturalmente come dire vi rendete conto che diciamo l'Europa in questo momento è all'avanguardia di questo dibattito l'Europa si è cimentata anche per una come dire una sua specificità storica con la regolamentazione delle piattaforme prima naturalmente con il GDPR che è già in force da qualche anno e diciamo sapete benissimo che il Digital Services Act e il Digital Markets Act due regolamenti che regoleranno due aspetti fondamentali da un lato il mondo della responsabilità delle piattaforme e dei contenuti e dall'altro quello della delle competition policies diciamo rappresentano una una nuova fase diciamo nel rapporto anche tra tra piattaforme e regolazione da questo punto di vista per noi è fondamentale per esempio che il Digital Services Act abbia come dire ribadito un quadro delle responsabilità limitata delle piattaforme sui contenuti che deriva sostanzialmente dall'impianto della direttiva e-commerce quindi ha come dire ribadito il fatto che per procedere con il take down di un contenuto la piattaforma debba avere quello che si chiama actual knowledge ma ribadendo questi principi fondamentali tra cui questo è il divieto di monitoraggio di obbligo di monitoraggio ha anche reso i meccanismi per i reclami degli utenti proprio su quello che si chiama notice and action molto più semplici facili dal punto di vista degli utenti e molto più trasparenti Digital Markets Act che invece è quello diciamo che regola ex ante il mondo della competition individua gatekeepers cioè le grandi piattaforme che hanno questo tipo di ruolo secondo la commissione europea e definisce degli obblighi molto sostanziali dal nostro punto di vista lo dico in una battuta perché non è questo l'oggetto della conversazione odierna è fondamentale che il percorso poi di implementazione di questo regolamento in particolare Digital Markets Act sia fatto insieme tra le piattaforme e chi dovrà fare l'enforcement perché sarà diciamo lo sforzo di compliance più forte per quanto ci riguarda negli ultimi decenni e diciamo così avere un dialogo regolatorio aperto è fondamentale viste anche le sanzioni che sono che sono previste per fare in modo che la compliance diciamo sia sia costruita nel migliore dei modi dicevo trasparenza rispetto al DSA perché secondo me questa è la parola chiave nel rapporto tra cittadini e piattaforme il punto è che i cittadini devono avere il totale controllo su che cosa condividono con le piattaforme devono essere diciamo nella condizione di poter ovviamente lasciare la piattaforma quando lo ritengono ma anche nella condizione di spostarsi diciamo da una piattaforma all'altra senza che senza che le piattaforme possano diciamo mettere in campo strategie che diciamo nei libri di management sono anche considerate come dire strategie di business come quelle per esempio del cosiddetto fenomeno lock-in no? cioè io penso che il cosiddetto multi-homing e la portabilità del dato che ne consegue che diciamo è uno dei dei capisaldi anche del GDPR debba essere non solo garantita perché un diritto se garantito ma nessuno lo conosce non viene esercitato debba essere spiegata e credo che occasioni come queste siano fondamentali per far crescere questa consapevolezza penso che gli utenti siano inevitabilmente sempre portati se li consideriamo come si fa normalmente in in economia ma non solo come diciamo degli esseri razionali siano orientati a scegliere sempre il servizio migliore naturalmente affinché questa cosa succeda poi nella realtà è necessario che loro possano spostarsi da un servizio all'altro con tutto il bagaglio di storia che essere stati su una piattaforma per anni rappresenta questo credo sia il punto fondamentale e in qualche modo mi riallaccio anche alla questione del valore del dato perché penso che ormai come dire che il dato abbia un valore sia una questione largamente accettata diciamo così in realtà come dire spesso viene anche un po' raccontato non in maniera esattissima ovviamente non è il caso di questa mattina il modo in cui noi funzioniamo e processiamo i dati nel senso che spiegare il nostro business model credo sia anche utile proprio nell'ottica di una maggiore chiarezza e di una maggiore trasparenza come voi sapete il nostro grandissimo fronte di revenues nel senso che se non sbaglio rispetto agli ultimi dati delle trimestrali sono più o meno il 98% vengono dalla pubblicità che vendiamo sulla nostra piattaforma questa pubblicità che è venduta sia su Instagram che su Facebook è venduta naturalmente agli inserzionisti che come dire in qualche misura propongono la propria pubblicità a un audience che attraverso un'analisi dei diversi segnali ha dimostrato interesse verso quel tipo di prodotto alla fine questo come dire consente da un lato agli inserzionisti di raggiungere un audience più sensibile evidentemente più interessato diciamo così ai propri prodotti ma dall'altra consente agli utenti da un lato di poter utilizzare i nostri servizi in maniera gratuita e di avere servizi che sono sempre all'avanguardia ma dall'altra diciamo anche di accedere a delle informazioni pubblicitarie se vogliamo dire così che possono essere più rilevanti rispetto ai propri interessi quindi credo che questa spiegazione sicuramente banale non approfondita però come dire dimostra che alla fine poi il nostro business model è molto più semplice di come ogni tanto viene dipinto nel senso che banalmente non c'è nessuna vendita dei dati degli utenti e in qualche misura consideriamo anche che questo tipo di approccio al mondo della pubblicità ha cambiato radicalmente un mercato che per tutto il novecento diciamo così fino all'avvento della pubblicità digitale era in realtà a solo solo diciamo le grandi realtà avevano accesso diciamo al mondo della pubblicità se pensiamo alla pubblicità che si vedeva nei media mainstream oppure sui grandi billboard esposti nei palazzi attraverso la pubblicità digitale anche una piccola start up una anche se vogliamo parlare di business meno innovativi una pasticceria a conduzione familiare può trovare diciamo il modo di proporsi sulle nostre piattaforme per delle cifre che sono anche molto contenute quindi credo che questo vada sottolineato accanto al fatto che naturalmente dal nostro punto di vista gli utenti devono essere in totale controllo dei propri dati liberi di stare o non stare sulla nostra piattaforma o su altre piattaforme credo che Guido avesse perfettamente ragione quando dice la maggiore trasparenza può potrebbe dovrebbe anche influire sulla scelta degli utenti un po' come funziona per il mondo green è un'equivalenza che mi piace molto secondo me qui c'è un ulteriore passaggio da fare cioè va benissimo l'accettazione dei termini e condizioni ma c'è uno sforzo ulteriore è comunicare tutto quello che il trattamento dei dati comporta eccetera nella maniera più comprensibile possibile per tutti in apertura il dottor Torino faceva riferimento all'oversight board faccio una battuta in chiusura su questo prendo un minuto per parlare di come funziona la moderazione dei contenuti sulle nostre piattaforme perché secondo me è un altro punto fondamentale noi abbiamo degli standard della community che regolano quello che si può fare e quello che non si può fare sulla nostra piattaforma e quello che si può dire e non si può dire ovviamente rispetto a grandi questioni perché la libertà di espressione per noi è un valore fondamentale ma per fare un esempio i discorsi d'odio non sono possibili su su Facebook e Instagram naturalmente il problema è quando si lavora alla scala di cui parlavo in apertura di questo piccolo ragionamento e come si fa l'enforcement perché mentre quando si parla di contenuti illegali è abbastanza chiaro che cosa è legale cosa non lo è perché c'è una decisione di un giudice da qualche parte che lo stabilisce quando si parla di quelli che noi chiamiamo harmful content invece il confine è molto più labile perché la stessa cosa in un contesto può essere evidentemente scherzosa in un altro contesto può essere un contenuto d'odio oppure a stampo razzista e così via quello che noi facciamo è come dire utilizzare una combination una combinazione di strumenti automatici di intelligenza artificiale e di reviewers umani le persone che dentro meta si occupano della revisione dei contenuti sono più di 45 mila ormai in tutto il mondo e siamo credo di gran lunga l'azienda che ha investito di più negli anni sulla moderazione dei contenuti naturalmente anche questo è un equilibrio dinamico che dipende dal contesto e dall'evoluzione della società nel senso che anche banalmente i nostri community standard si evolvono pensate per esempio a cosa ha voluto dire tutta la pandemia covid noi naturalmente abbiamo messo in campo strategie per come dire fare take down di tutti quelli suggerimenti che potevano portare un danno diretto no? come quelli che dicevano che per curarsi dal covid bastava ingerire sostanze strane per migliorare tutto questo e qui vengo all'oversight board abbiamo introdotto anche un oversight board che diciamo è un'espressione che non traduco in italiano perché secondo me qualunque traduzione rischia di essere misleading qual è il compito dell'oversight board e come sono stati scelti i membri l'oversight board ha il compito sostanzialmente di esprimersi sulle decisioni più difficili rispetto alla moderazione dei contenuti innanzitutto non è direttamente come dire non si tratta di dipendenti di meta è finanziato attraverso l'utilizzo di un istituto anglosassone che è quello del trust nel senso che meta alloca una certa cifra su base annuale di cui poi l'oversight board è totalmente libero di disporre per autofinanziarsi è costituito da persone di altissimo profilo con background vari di esperti persone che vengono dal che hanno avuto anche esperienze di governo e così via in tutto il mondo grandissima diciamo attenzione alla diversity per noi le decisioni che prende l'oversight board sono vincolanti quindi se l'oversight board si esprime su una certa decisione noi come azienda siamo obbligati a a seguirla non solo l'oversight board oltre a esprimersi sul caso in particolare perché ovviamente capite benissimo che non hanno la possibilità di lavorare su scala quindi i casi che vengono sottoposti all'oversight board sono casi largamente rappresentativi in cui l'oversight board prende la decisione su quel caso specifico ma come dire emana anche delle dei consigli diciamo così delle recommendation per migliorare le policy e le enforcement sulla nostra piattaforma e in questo meccanismo che se volete è di co-regolazione tra la piattaforma e l'oversight board crediamo ci sia diciamo un tentativo di migliorare le nostre prestazioni su questo naturalmente e chiudo su questo l'abbiamo fatto in un momento in cui non c'erano regole sulla moderazione dei contenuti siamo consapevoli che è una soluzione parziale però ripeto siamo in un mondo credo in cui si migliora per approssimazioni successive e quindi questo è stato il nostro tentativo rimango a disposizione naturalmente per domande o semplicemente per tenere aperte la conversazione in futuro grazie ringrazio molto il dottor Arzarello per la disponibilità anche per la chiarezza non facile parlare sempre di questi argomenti in maniera così breve il tempo è veramente poco per affrontare tutti i temi io ovviamente avrei tantissime domande personali proprio come studioso del settore e come utente di divertirei forse tutti i servizi meta da questo punto di vista le faccio una in tono un po' scherzoso ma anche un po' provocatorio come dicevo lo zio di un famoso personaggio dell'universo Marvel diceva da grandi poteri grandi responsabilità è indubbio che meta cioè facebook whatsapp instagram costituiscono un potere forte noi giuristi diciamo che costituisce questo gruppo questo concomerato di aziende che costituisce un potere di fatto che in qualche modo si contrappone non negativamente ma si confronta col potere legittimo che è quello che è il potere istituzionale dato da noi cittadini ai nostri rispettivi stati ai poteri statali che si sono evoluti nel corso di secolo evidentemente i numeri che lei ha detto sono impressionanti a un certo punto nella giornata ci sono 2 miliardi e 300 2 miliardi e 300 milioni di persone che usano i vostri servizi e anche in Italia costantemente vengono utilizzati questi servizi allora mi chiedevo due cose primo se voi avete la consapevolezza di questo incredibile potere economico quantitativo politico e se questa consapevolezza com'è internalizzata nella vostra azienda al di là di quello che va a dire Mark Zuckerberg che poi è il congresso degli Stati Uniti che qual è cosa passa veramente in tutti coloro che lavorano per la vostra grandissima azienda di questo grande potere come lo vivete secondo se a fronte di questo grande potere e anche a fronte immagino di grandi risorse economiche voi quanto effettivamente impiegate per tutelare i nostri diritti e faccio un esempio molto concreto lei giustamente ha detto che per moderare i contenuti ad esempio per moderare un contenuto razzista o un hate speech oppure un contenuto un video di sex revenge come si usa adesso utilizzare voi utilizzate due strumenti strumenti automatici di detection che individuano e poi strumenti di persone di reviewer persone fisiche 45.000 al mondo però 45.000 al mondo se pensiamo che solo in Italia 33 milioni sono sul online in un giorno e che quindi in ogni minuto potrebbero caricare milioni di cose mi fa capire che voi facciate affediamento soprattutto sui sistemi automatici di detection e sappiamo anche bene che l'internet e il mondo virtuale è veloce che come una cosa viene caricata se non viene scaricata immediatamente o pannata immediatamente si è persa tant'è vero che giorni fa sono tornati online i famosi video di quella povera ragazza la Cantone che dopo aver subito un attacco di revenge porn si è suicidata e si pensava che fossero scomparsi invece sono riapparsi allora mi chiedo se può dircelo quanto effettivamente fa Meta Facebook Instagram ma soprattutto le social platform per combattere questo questo fenomeno e io vorrei qualche numero cioè se faccio un esempio Facebook e Instagram guadagnano a un tornore di un miliardo di euro all'anno quanto viene destinato di quel miliardo di euro il 10% a proteggere i nostri diritti il 5% lo 0,3% perché poi ecco la vostra penso immagine dipenda anche da quanto riversiate nella comunità di quello che voi correttamente giustamente guadagnate le lascio qualche minuto per rispondere grazie mille innanzitutto diciamo qualche considerazione generale grazie per la domanda perché la trovo molto giusta nel senso che naturalmente sono tutte questioni su cui noi riponiamo un'importanza direi strategica la prima considerazione è la seguente è chiaro che noi siamo consapevoli di essere una delle grandi aziende di questo mondo e sappiamo che come dire la nostra dimensione è anche il fatto sostanzialmente di essere stati i primi come azienda di social network ci dà delle responsabilità maggiori rispetto agli altri sappiamo di dover giocare un ruolo sappiamo anche di aver fatto errori anche importanti nel nostro passato e questo ovviamente porta in tutti noi credo una consapevolenza maggiore di dover fare la nostra parte anche proprio in questa fase in cui in Europa per esempio perché per quanto mi riguarda noi siamo dipendenti naturalmente di un'organizzazione americana di un'azienda americana ma siamo anche orgogliosamente cittadini europei di dover fare la nostra parte qui in Europa in particolare dove si stanno scrivendo le regole per il web del futuro e su questo mi fa piacere dire ad esempio che il metaverso avrà un cuore europeo perché meta ha annunciato che sostanzialmente saranno assunti 10.000 ingegneri in Europa per i prossimi 5 anni per la costruzione del metaverso e questo guardi che ha anche come dire un impatto non solo numerico ma anche nella cultura delle aziende perché inevitabilmente quando assumi personale in un posto del mondo quel personale si porta dietro un bagaglio di esperienze di vita di cultura e quindi il fatto che il metaverso insomma verrà costruito in Europa dove comunque c'è la centralità dell'uomo è secondo me un aspetto diciamo davvero significativo per quanto riguarda diciamo un altro aspetto secondo me difficile ogni tanto problematico diciamo nel rapporto con il legislatore del regolatore che la natura dei nostri servizi ma non solo dei nostri del mondo digitale è per propria natura cross border si dice in inglese cioè nel senso che è molto complicato diciamo così regolare su base nazionale un servizi che hanno diciamo per loro natura una base diversa questo ovviamente non vuol dire che noi vogliamo non essere regolati vuol dire che c'è un continuo esercizio diciamo di provare a sincronizzare queste due dimensioni che non sempre sono identi per quanto riguarda la moderazione dei contenuti online e più in generale la sicurezza dei nostri utenti è chiaro che per noi è la priorità assoluta io adesso non ho diciamo sotto mano i numeri ma ho un concetto che invece mi è molto chiaro negli anni Meta prima Facebook ha investito sulla sicurezza degli utenti una cifra maggiore al valore che l'azienda aveva al momento dell'IPO cioè quando è stata ancora rimborsa che credo dia come dire non ho numeri sotto mano ma diciamo dia l'idea diciamo che questo tipo di problematiche rivestono per noi un'importanza strategica e rispetto alla questione diciamo che citava del revenge porn o più in generale delle immagini intime diciamo condivise in modo non consensuale sulle piattaforme mi fa piacere citare invece uno sforzo che abbiamo fatto proprio col col garante italiano cioè attraverso un progetto pilota chiunque in Italia abbia la paura che proprie immagini intime possano essere condivise ad esempio per fare un esempio banale perché una relazione è finita male ha la possibilità sia attraverso il garante sia attraverso un'associazione che ci che ci supporta di condividerle per ovviamente non vengono visualizzate vengono viene fatto un hash si dice in termine tecnico e sostanzialmente chiunque provi a ricaricare quel tipo di contenuto sulle nostre piattaforme viene diciamo tirato giù immediatamente nel senso non viene consentito proprio il caricamento credo che questo sia magari una piccola cosa ma che va nella direzione proprio di evitare episodi spiacevoli come quello spiacevoli molto più che spiacevoli drammatici e tremendi come quello che citava l'ultima cosa che volevo dire è che c'è un ultimo punto che mi sfugge delle cose che mi aveva chiesto potere responsabilità no no potere responsabilità dicevo appunto il tema è che sentiamo la responsabilità ma diciamo mi fermo se mi viene in mente eh non si preoccupa intanto eh la la contatteremo ancora per qualche altro intervento magari nella prossima edizione di lezione d'Europa intanto penso che già oggi il suo intervento ci è stato molto utile abbia chiedito molti punti molti ne potremmo ancora chiarire e trattare evidentemente ma non mancheranno per certo occasioni anzi se la vostra azienda poi eh vorrà eh potremmo anche coinvolgervi delle iniziative che facciamo come di Euro Direct eh a tutela dei diritti dei cittadini europei ma questo è un discorso ulteriore intanto la ringrazio veramente mi dispiace adesso di chiudere eh adesso il nostro incontro ma come detto dobbiamo eh lasciare l'aula quindi eh saluto tutti e ridò la parola alla nostra eh eh general conduttrice nella nostra il nostro capo dei capi che è Claudia Salvi a quale do la parola e ringrazio nuovamente Flavio Arzarello e Guido Scorza e mi taccio a te Claudia grazie volevo anch'io ringraziare i relatori principalmente anche tutto lo staff di tutti gli Europe Direct coinvolti in questa iniziativa e ringrazio a te Raffaele per questo webinar che è stato di grande interesse devo dire ehm volevo soltanto ricordarvi l'appuntamento della prossima settimana 26 maggio eh con Centro Comune di Ricerca Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale perché parleremo di intelligenza artificiale strategia europea e strategia nazionale eh ringrazio tutti e vi saluto e spero di vedervi presto appunto in occasione di prossimi appuntamenti arrivederci buona giornata buona giornata grazie ancora